Un'antenna davvero performante, leggera, molto utile quindi per chi viaggia in camper ma non solo. Sì, la nostra è un'antenna molto leggera, è costruita tutta in policarbonato. Noi siamo un'azienda che è 30 anni che siamo sul mercato dello stampaggio, realizziamo stampi e stampaggio nel settore tecnico, non nel settore civile, tutto particolare. Abbiamo fatto quest'antenna, abbiamo realizzato tutti gli stampi noi e tutto lo stampaggio lo curiamo noi, lo facciamo noi per renderla molto leggera, pesa solo 4,5 kg, è l'antenna più leggera sul mercato. Diciamo che poi stiamo realizzando ancora degli accessori per renderla ancora più innovativa. Siccome l'antenna è su un GPS a bordo per rilevare l'esatta angolazione in base a dove uno si trova, è un inclinometro che compensa il diverso livello del camper, stiamo realizzando dei apparecchietti elettronici per fare sì che l'antenna sia utile anche per diario di viaggi, diario di bordo, antifurto, rilevare la sua posizione anche in caso di furto, nei casi in cui viene messo in moto il camper da una persona estranea viene inviato un sms sul telefonino. Possono essere allestite su qualsiasi mezzo? Sì, sì, qualsiasi mezzo, addirittura la 40 può essere trasportabile, smontabile, perché è leggerissimo, molto molto leggero.